Buonasera a tutti, sono Luigi Anaracus Superfit e benvenuti con la sua tronzetta o cambatto al versione JAP con il pull or not nella nuova batch di Goku Super Saiyan Blue che è praticamente un 50% una copia in colla della batch di C13, ma va bene come al solito abbiamo 7 PG, in questo caso non abbiamo nessun nuovo Rare Summon i Rare Summon che vanno a tour sono vecchi e diventano una bestia, sono tutti e tre ottimi abbiamo però dei personaggi abbastanza interessanti, quindi secondo me vale la pena trattare quantomeno in parte questa batch, anche se è già uscita nel global allora, iniziamo dalle merde, ovvero Ultimate Shitan STR ragazzi, c'è solo un Gohan decente, Dokkan Festival non è l'R dell'altro quindi prendete sto qua e buttatelo nel cesso Golden Freezer Angel, in realtà Golden Freezer Angel, un PG abbastanza buono che viene anche rivalutato in parte grazie alla ROAD Extreme Int mi ha aiutato, mi ha decisamente aiutato il suo debuff è abbastanza importante, quindi ci può assolutamente stare a mio avviso Jiren, esattamente come ho detto su C13, su questo il pull PG mi ripeterò è un PG in me, cioè io l'ho usato nella ROAD Super STR, ma può non servire, cioè se vi volete affidare a lui sappiate che spesso è un PG inutile, se vi parte la passiva è auto win la passiva vi dà la vittoria quasi nelle ROAD soprattutto non all'inizio ma a metà ROAD, quando siete già al terzo turno è un auto win mi fa chiudere con una bellezza che la metà basta, quindi su quello devo proprio dirlo GG Jiren abbiamo poi R17, anche qua mi ripeterò quello che ho detto nella batch di C13 ovvero PG sempre buono perdo un po' di utilità nel tempo, però ci potete fare tranquillamente tutto ho fatto tranquillamente la super fisica con lui, ma molto tranquillamente tanca, potenzia la difesa, dai ki davvero fa un po' di tutto, buono 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 abbiamo poi il shit, super shit, il grandissimo shit nell'extreme tech ha dell'utilità, ma bisogna che sia da ability perché comunque altrimenti lo pigliate dove non batti il sole non cambia la mia idea su di lui che ho dato appena uscito una shit e una shit rimane ora ha qualche parvenza di utilità, ma molto relativa Future Gohan Inter, l'unico motivo per cui sto pullando su questa batch quasi, in realtà no, perché anche Goku è buono però davvero un grandissimo PG, buono, ma buono davvero mi piace un botto, mi piace un botto infatti sono indeciso se pigliarmelo o no con i coin probabilmente farò un'altra multi, anche perché ne ho fatte due oggi è solito fare la seconda, col Battlefield riusci a fare la terza probabilmente ne faccio un'altra, se non mi esce me lo piglio coi coin perché la categoria non è nulla di che cioè, senpai notice me, student e master bond non è chissà quale categoria fantastica ma lui è un gran bel PG e Int, però ha un'ottima passiva GG, cioè è buono, davvero buono, mi piace gran gran PG infine, Goku Blue Kaioken STR lui tanta roba anche non mi dispiacerebbe se mi uscisse non lo reputo il top PG da prendere in questa batch Reptogon a lui superiore però se vi esce non è di sicuro malvagio Pularo no su questa batch, siamo molto vicini alla Golden Week siamo molto vicini alla Golden Week che l'anno scorso è stata a Gobross quindi Family LR cosa sarà quest'anno? sarà LR nuova? non lo sappiamo non lo sappiamo potrebbe essere potrebbe essere quindi non andateci troppo pesante due multi massimo tre i PG sì, sono buoni ma nessuno di loro è necessario le Road Super si fanno tranquillamente senza i PG in questa batch le Road Extreme anche e comunque sono PG vecchi quelle delle Road Extreme tolto it che non è uscito tantissime volte comunque PG vecchi quindi dovreste già avere lì tipo il nostro caro Golden Freezer Angel penso che molti di voi lo avranno non tutti però molti di voi lo avranno quindi è una batch che si vale la pena spendereci qualche multi ma non troppo troppo non è non è una batch che penso abbia il valore magari di quella di Bardak che invece cavolo mi ha rotto abbastanza non trovare Bardak nonostante ci abbia in realtà ci ho fatto poche multi ci ho fatto 5 multi alla fine trovando ero in quella di Bardak che c'era la Family no? ero in quella di Bardak se non ero già non mi ricordo più se ero in quella di Bardak che c'era la Family che memoria comunque sia se non sbaglio si è trovando due Family che mi è andata comunque bene però avrei voluto Bardak per quello cavolo lo dirò adesso per la GL appena torna Bardak me lo compro con i con lui è un acquisto sicuro al 100% Goku è un buon PG davvero semplicemente non vedo che adesso abbia chissà quale utilità se non andare a vedere i danni nelle attuali nuove ROAD non serve chissà cosa non è un PG must have anche Gohan non è must have però lo reputo superiore comunque ditemi voi se avete pullato se lo avete trovato o no io vi auguro una buona giornata e rimanete sintonizzati perché presto dopo 3-4 anni direi anche di più forse uscirà finalmente il video sull'evoluzione al 3.0 del canale sto aspettando una determinata cosa che mi arrivi in quanto una volta che mi arriverà questa cosa potrò dire di poter iniziare la parte 3.0 e vedremo come il canale si evolverà avete già notato che sto iniziando a differenziare i contenuti in questi mesi a una velocità imbarazzante chiedo scusa ma le cose cambieranno breve quindi vi auguro una buona serata e al prossimo video e ricordatevi Blasi ha una forte amicizia verso Shugash